Vi è mai capitato di avere su più righe una lunga serie di valori che in Excel dovrebbero invece apparire incolonnati? A noi sì e mettersi a spostare manualmente ogni valore è un'operazione folle. Fortunatamente Excel dispone di una funzione semplicissima da usare che converte le righe in colonne e viceversa. Per utilizzarla basta semplicemente selezionare i dati da invertire e quindi premere la combinazione di tasti per copiare il contenuto di tutte le celle in memoria, area degli appunti di Windows. A questo punto ci si può ad esempio portare in un nuovo foglio elettronico quindi fare clic sul pulsante in colla in alto a sinistra e scegliere in colla speciale. Spuntando la casella trasponi e cliccando il pulsante ok tutte le righe e le colonne precedentemente copiate in memoria risulteranno invertite. I valori contenuti in colonne saranno disposti su righe e viceversa. Nella stessa finestra in colla speciale è possibile evitare di portarsi dietro eventuali formattazioni come stili di carattere, giustificazioni, colori e così via. Basta ad esempio selezionare formule e formati numeri per conservare le formule presenti oppure scegliere l'opzione valori e formati. Numeri per limitarsi a incollare soltanto i valori presenti nelle celle mantenendo il formato dei numeri. Con un clic sul menu inserisci di Excel quindi sul pulsante tabella pv è possibile creare una nuova tabella, ad esempio in un nuovo foglio elettronico, mostrando i dati in forma professionale. Agendo sulle casella contenute nella colonna di destra campi tabella pv, si possono selezionare le informazioni da presentare nella tabella. Come passo finale si possono modificare i formati dei numeri e applicare gli ultimi interventi sulla struttura della tabella pv.